E' ancora senso oggi parlare di omogenitorialità distinta dalla eterogenitorialità e che cosa intendiamo precisamente per genitorialità? Dunque, mi piace partire dall'idea che ci sia una genitorialità, perché questo mette l'accento su quella che è la funzione di un genitore, quindi riconoscere i bisogni, le aspettative, le necessità di crescita e di legame che hanno i figli e fornire le cure adeguate che implicano moltissime funzioni e questo non ha etichette legate al genere, men che meno all'orientamento. Naturalmente le etichette di etero e omogenitorialità sono delle etichette anche di tipo, in qualche modo più sociale, che aiutano a distinguere la composizione delle famiglie e quindi le famiglie più tradizionali, quindi eterogenitoriali e le famiglie cosiddette same sex, dove i due genitori sono dello stesso sesso. In molti paesi le famiglie dello stesso sesso hanno una tutela giuridica, diritti e doveri anche riconosciuti dalle leggi e in altri paesi come il nostro sono un fenomeno reale, in Italia si parla di circa 100 mila bambini, figli di coppie etero e omogenitoriali, ma sono un fenomeno molto vivo e molto esistente sul piano sociale, ma assolutamente sommerso dal punto di vista della loro possibilità anche di essere in qualche modo censiti, al di là della dimensione associazionistica come per esempio le famiglie Arcobaleno, che pure naturalmente è importante, ma non raccoglie tutte le realtà di omogenitorialità. Io stesso e credo anche proprio nel lavoro sulla famiglia inconcepibile che ho scritto per infanzia e adolescenza, dico sarebbe ora di capire che esistono buoni e cattivi genitori indipendentemente dalle connotazioni di genere e di orientamento che i genitori hanno e quindi sono d'accordo con lo spirito della sua domanda, parliamo di genitorialità e cerchiamo di capire di volta in volta se siamo di fronte a buoni o a cattivi genitori. Il pregiudizio rispetto all'orientamento sessuale dei genitori è verso le evidenze empiriche e l'orientamento sessuale può essere incluso tra i fattori di rischio per la genitorialità, questa è una prima domanda. Una seconda domanda, come crescono i bambini in famiglie omogenitoriali? Dunque, la definizione e anche la visibilità e in qualche modo è un riconoscimento sociale simbolico di famiglie in cui i genitori hanno lo stesso sesso non è un fatto banale, dobbiamo assolutamente riconoscere che è un nodo antropologico molto forte, è un segno trasformativo delle società, fino a nemmeno tantissimi anni fa le persone omosessuali, non è che fossero genitori o non avevano figli, semplicemente non si dichiaravano come tali e non proponevano la loro esperienza come un'esperienza che doveva essere riconosciuta e regolamentata, quindi con diritti e doveri. C'erano infinite soluzioni e la genitorialità di persone omosessuali era una genitorialità che non veniva alla luce. Con il passaggio dalla definizione di persone omosessuali, quindi sulla base di comportamenti, a persone gay e lesbiche, quindi anche con un'implicazione legata all'identità e alla richiesta di diritti, c'è stato un forte cambiamento di tipo sociale, di tipo politico e quindi inevitabilmente su tutti i registri delle rappresentazioni anche psicologiche e questo ha iniziato ad avvenire con gli anni 60 del secolo scorso e man mano ha acquisito fisionomia. C'è stato un passaggio che potremmo definire così, prima il riconoscimento di identità personali, poi il riconoscimento di identità di coppia, di relazione e poi il riconoscimento di identità che implicano la costruzione di sistemi come quello familiare, quindi dall'individuo alla coppia alla famiglia e oggi siamo in questa fase. Questo giustamente può preoccupare, stupire, spaventare come tutte le cose che non hanno una tradizione in qualche modo riconosciuta, codificata e sancita, io sono sicuro che anche le accelerazioni della storia porteranno a integrare tra le proprie rappresentazioni anche questa nel giro di pochi anni. Al momento capisco che molte persone possano rimanere colpite da questa realtà. Il grande passaggio è quello di passare dallo stupore alla curiosità e al tentativo di riconoscimento anche empatico di una realtà che magari qualcuno sente come diversa e inconcepibile dal punto di vista psicologico, mentre più pericoloso è il passaggio dallo stupore all'avversione, alla contrarietà, all'ostilità. Questo è un modo anche di danneggiare non solo i genitori dello stesso sesso, ma anche i bambini, perché naturalmente si crea attorno a queste realtà uno stigma che va sotto il nome di minority stress per dare un nome tecnico, quindi sostanzialmente tutte quelle condizioni di crescita, sviluppo e benessere psicologico e sociale danneggiate dall'esistenza di uno stigma che di solito è connesso a un pregiudizio, perché come ricordava lei nella sua domanda, una tradizione ormai più che trentennale di ricerche, le prime più rudimentali, le ultime molto sofisticate, dimostrano come potremmo leggere anche da tutti i vari statement dell'American Psychiatric Association, dell'American Psychological Association, dell'American Academy of Pediatrics, cito molto gli americani perché la letteratura di base su queste tematiche è una letteratura nordamericana, ma negli ultimi anni la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, moltissimi paesi hanno sviluppato anche dal punto di vista delle associazioni scientifiche e professionali, una sorta di atteggiamento abbastanza trasversale, poi con ovviamente differenze geograficamente distinguibili. La cosa importante è che tutti questi statement e tutti i risultati di queste ricerche dicono che i bambini che crescono in contesti di famiglie con genitori dello stesso sesso non presentano indicatori di difficoltà nella crescita, malessere dal punto di vista psicologico, limitazione nelle loro funzioni, sono come i bambini che crescono nelle famiglie eterogenitoriali e quindi possono crescere bene o possono crescere male, torniamo al discorso che facevamo prima su genitorialità, una buona o una cattiva genitorialità. È vero, sarebbe sciocco non riconoscerlo, che poi le famiglie con genitori dello stesso sesso incontrano il problema di cui parlavamo della stigmatizzazione sociale e quindi c'è un problema che dall'esterno può colpire la crescita e le caratteristiche della crescita e questo naturalmente invita a delle politiche, a delle attività di educazione, alle diversità, alle differenze e poi ci sono invece delle caratteristiche specifiche delle famiglie con genitori dello stesso sesso che a volte sono sovrapponibili a quelle di altri tipi di famiglie, per esempio con genitori adottivi oppure famiglie con genitori eterosessuali ma che hanno avuto bambini con fecondazione eterologa, che in Italia non è concesso, ma naturalmente sappiamo che molte persone si recano all'estero per questo tipo di opzioni e quindi torniamo un po' al famoso incipit tostoiano che citavamo anche la sera, che abbiamo fatto quella bella tavola rotonda all'ordine degli psicologi del Lazio in cui si dice che tutte le famiglie felici sono uguali e poi tutte le famiglie infelici sono infelici ciascuna a modo suo, intendendo dire che quando ci sono delle difficoltà poi ogni famiglia ha le sue specificità, forse bisogna anche riconoscere che l'idea di una famiglia modello è un'idea, è un po' un ideale, sappiamo benissimo chi si occupa di psicologia evolutiva, chi si occupa di sistemi familiari sa che esistono infiniti tipi di famiglie, con un genitore solo, con due genitori, ricomposte, ricombinate, allargate, adottive, eterogenitoriali, omogenitoriali e di volta in volta emergono delle tematiche che lo psicologo deve individuare e sviluppare nel dialogo, nell'intervento clinico per facilitare e non per complicare il compito del genitore. Quali sono le difficoltà che una coppia gay incontra nella scelta di fare un figlio? Le difficoltà da un lato e anche i bisogni? Dunque, io penso che ogni coppia abbia le sue difficoltà, le sue gioie, le sue speranze, i suoi progetti. Se vogliamo giustamente cercare anche di fare delle sintesi, io penso che un primo dato importante da dire e questo implica anche una riflessione poi su le preoccupazioni che alcuni possono avere nei confronti di queste famiglie, si tratta sempre di genitorialità a lungo cercate e desiderate e che nascono anche da un profondo scambio di progetto, di relazione, di scambio tra i due genitori. Non sono delle genitorialità casuali, detto questo molte genitorialità casuali sono magnificamente autentiche, altre invece si affrontano la genitorialità come un imprevisto, una cosa non cercata e quindi anche quelle sono tematiche che vanno di volta in volta considerate. Quindi nel caso delle famiglie omogenitoriali il fatto di base è che è una genitorialità scelta e cercata e a lungo desiderata. Le difficoltà a questo punto si distinguono anche in base alla composizione di genere delle coppie. Due donne avranno difficoltà di percorso di un certo tipo, due uomini difficoltà di percorso di un altro tipo, proprio dal punto di vista dei modi scelti per diventare genitori e quindi questo peraltro implica tematiche anche di tipo tecnico e di tipo biologico importanti nella rappresentazione che poi i genitori e un domani anche i figli avranno della loro genealogia, della loro storia, della storia del concepimento e dello sviluppo familiare. Ci sono delle tematiche che possono riguardare chi è il genitore biologico e chi non è il genitore biologico, delle tematiche che possono riguardare quanto entrambi i genitori hanno elaborato il tema della propria omosessualità, l'integrazione e l'accettazione della propria omosessualità oppure la persistenza di ambiti che noi tecnicamente chiamiamo di omofobia interiorizzata in cui una difficile accettazione di sé può naturalmente implicare difficoltà nelle relazioni col partner e poi anche nella relazione con i figli, anche se i risultati di una ricerca che abbiamo appena concluso e che spero pubblicheremo presto dicono una cosa interessante che in un campione di persone gay e lesbiche quelle che pensano alla genitorialità o addirittura hanno già in qualche modo promosso il percorso di genitorialità sono quelli che hanno una minore omofobia interiorizzata, quindi per arrivare a pensarsi come genitori c'è stato poi tutto un percorso relazionale e individuale di accettazione di sé e di autostima e di capacità di pensare di poter fare una cosa buona come diventare genitori, mentre invece per molte persone gay e lesbiche a volte il problema è proprio pensare di non avere le carte in regola e quindi di non poter contribuire in modo positivo alla costruzione della società o dei legami. Quale dovrebbe essere il ruolo delle associazioni di psicologia per dare visibilità alle famiglie omogenitoriali e quali passi si stanno facendo per il riconoscimento e la tutela dei loro diritti? Io non penso tanto che le associazioni di psicologia debbano porsi il problema della visibilità, anche perché parto dal presupposto che il problema della visibilità c'è quando esiste il problema della clandestinità o della mancanza di una cittadinanza uguale per tutti e quindi mi auguro una società, un domani in cui allo Stato non interessi sapere il genere e l'orientamento delle coppie o delle famiglie, però in questa fase credo che sia importante per le associazioni di psicologia promuovere sostanzialmente un dibattito che sia un dibattito scientifico e non ideologico, un dibattito che tocchi le tematiche a volte anche emotive, viscerali legate a volte al pregiudizio, ma le affronti con gli strumenti della ricerca, della conoscenza, per esempio tutte le ricerche dicono che il pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali è molto maggiore quando non c'è mai stata nella vita l'occasione di conoscere, di incontrare, di condividere amicizia, vicinanza, prossimità con realtà che fanno molta più paura o destano molta più preoccupazione se non ostilità quando vengono solo pensare, la realtà di tutti i giorni poi è più semplice delle rappresentazioni o dei fantasmi che certe situazioni evocano e quindi credo che fornire dei dati, fornire delle informazioni, promuovere come per esempio questo numero ha fatto, un'informazione attenta sia dettagliata, sia molto importante.